Sì, la palestra e il pranzo, vista la giornata che c'era la giornata... Oh! Ah, e siccome non ero soddisfatto, dopo il piano su, si trova un po' di differenza all'effetto. Sono finita anche una super alta calda. Ci siamo quasi a tra poco, mattina 5. Eccoci qui direttamente dal backstage di mattino 5, abbiamo anche, direttamente dagli anni 80... No, dagli anni 80, no! Eccomi qua, sto uscendo dagli studi di mattino 5. Che ne pensate? Beh, è andata non male, hanno provato, ma non ce l'hanno fatta. Allora, prima che me lo dimentico, sto andando a registrare le ultime della casa, siamo qui agli studi di Mediaset, quindi la puntata andrà in onda lunedì alle 19.30 su Mediaset Extra e sulla 5 il giorno dopo. Allora, ora vi spiego come funziona la televisione. Così si vede che mi sono svegliato alle 7.00. Di là? No. Perfetto. Perfetto, omogeneo, niente occhiaie, perfetto. Allora ragazzi, fatemi sapere che ne pensate. Da Mediaset è tutto. Sto andando in stazione e questo weekend finalmente torno a casa. Non vedo l'ora di riavbracciare il mio fratellino. A dopo! Eccoci qua in partenza, no centrale. Il treno per Venezia-Santa Lucia è in ritardo al binario ODC. Arrivo, Andrew. E sono anche riuscito a non perderlo. Ah ragazzi, ho il nuovo hashtag e l'hashtag è legumi. Voglio sapere anche voi che cosa ne pensate delle lenticchie e se le mangerete a Capodanno io vi assicuro di no. Lenticchie basta perché portano allo scoltro, quindi fate attenzione alle lenticchie. Allora, ragazzi, sono partito e vi volevo chiedere che cosa ne pensavate del look di oggi. e tutto al jeans. Quindi camicia e jeans. Camicia in jeans chiaro e pantalone in jeans.